Spostate lì Barbò! In tutto il mondo vi domanderete perché non facciamo giocare Paolo Maldini in centrale? Perché non lo facciamo giocare? Perché il Maldini a Zack con suo modulo 343 serve sulle fasce, capito? Sulle fasce! Scusate, io non avevo visto che la macchina era là! Cacchio, è arrivato il nemico! Chi è la colpa? Aia mortacci sua, che infrosciata! Ma avrà inclinato 78 vertebre, ma risponde pure qui il suo sterco! Ancefali, dico, ma come cazzo! Ma vedi pure termina! Esci fuori, abisciore schifoso che ti faccia fessi come un pulso! L'immortacci tua! Sto bagliano fame, c'ha pure il tassico che si chiama Zack Cacchio, ero di quattro! Ma tanto te ne pio, andavai! Come da chiappo ti staccano i blanche e te c'è meno come il biscovo! Merde giallorosse! Stasera vi picchiamo tre pappine! Una sulla faccia e due sulle chiappe! Barboni!